Finalmente lo staff di Pokémon Next ha il piacere di annunciarvi la traduzione di Pokémon Adventures speciale Sole e Luna Infatti noi dello staff abbiamo tradotto il primo capitolo del manga prima citato In Pokémon Adventures Sole e Luna incontreremo Sole per la prima volta, un ragazzo con un debito, un importante debito Faremo la conoscenza anche di Luna, una ragazza piuttosto introversa e che di sicuro regalerà molte sorprese I due giovani si incontreranno sulla spiaggia Come si svolgerà la loro avventura? Potete scaricare questo primo capitolo nel primo link che trovate in descrizione Mi raccomando, seguitelo perché è davvero importante per noi avere anche un vostro feedback Nel caso fosse particolarmente positivo e apprezzato, porteremo altri capitoli Mi raccomando, sosteneteci con un bel pollicione in su Mi raccomando, iscrivetevi se ancora non lo siete In descrizione trovate anche la nostra pagina Facebook, il nostro profilo Twitter, Instagram e il nostro sito web Mi raccomando ragazzi, lo ribadisco, ci tengo molto alla vostra lettura di questo capitolo Quindi mi raccomando, non deludeteci Noi ci vediamo presto Qui da Dico è tutto Ciao allenatori!